È vero, abbiamo visto qualche giocata fa, un tuo ingresso molto deciso, sembra che proprio non hai paura di farle delle giocate, una forza dove hai impatta qua, che hai fatto la direzione del mister, ma hai fatto una grande partita. Ti ricordi qualcosa del gol oggi? Sì, sì, però sarà la prima cosa del gol, sicuramente. Ce lo descrivi, spero, con un po' là. È nulla, ho visto Musa che ha controllato palla, allora ero sicuro che la palla arriva a me, e ho fatto un passo dietro, ho voluto con la coda all'occhio alla porta, è una palla arrivata, e per fortuna non ti importa. Siamo nel 2005, tra gli anni mi sembra il 15-15, e quindi ne è ancora nel 17, che cosa si prova a affrontare il derby che qua è importante per quella piazzata, ma anche, insomma, il brazulano della produzione lo conosciamo, però poi bisogna andare in campo. Certo, nulla, la grazia non era alta, ma penso sia stata così per tutti, però la squadra è venuta molto, siamo, ne ha fatto una bella partita, peccato per il risultato. L'ultima cosa, avete magari subito un po' voi più giovani, insomma, l'impatto del derby, può aprire un tempo, poi avete fatto pratica, ma nel derby si sa che... Sì, può essere, certo, può essere, noi giovani siamo tanti, però ci ritrovo molte vicende, soprattutto i piazzati ci ritrovo molto, quindi siamo sereni, stiamo facendo bene. Grazie a te. Grazie.